Sì, il tema non era all'ordine del giorno, ma dopo quanto accaduto ieri, Gioco Forza, il prefetto Renato Sacconi e il sindaco Beppe Sala hanno discusso anche di questo tema delle occupazioni. Tema nodale per Milano, così ha detto il prefetto, che ha ricordato che dal 2014 a oggi erano 4.500 le unità occupate, oggi sono diventate 3.600. Solamente dall'inizio dell'anno 103 unità dell'Aller sono state sgomberate attraverso una serie di sgomberi programmati. Esiste un patto infatti tra le istituzioni proprio per questo tipo di sgomberi. Per il sindaco Sala, il quanto avvenuto ieri non è nulla di nuovo, ma bisogna comunque intervenire, il problema è non fare rioccupare le case. Sala ha anche invocato una maggiore collaborazione da parte di Aller e Regione Lombardia su questo tema degli sgondori, sottolineando che devono essere fatti bene e devono essere anche organizzati per l'assistenza dei minori. Ma sentiamo nello specifico che cosa hanno detto il sindaco e il prefetto. Da Regione e da Aller c'è bisogno di ancora più collaborazione e noi faremo la nostra parte quello che stiamo facendo per far sì che le occupazioni non avvengano. Solo così si riuscirà a risolvere il problema. E credo che di nuovo in questi anni e anche con l'aiuto di prefetto e questore di nuovo i numeri riparlano. Sono state ridotte significativamente le occupazioni. Ogni giorno, grazie a questo patto, è programmata una liberazione di un appartamento, di una casa, in questo momento solo Aller, prima anche MM, ma ogni giorno è programmato uno sgobro. Sul fronte Regione Lombardia sono intervenuti l'assessore alla sicurezza romano La Russa e l'assessore alla casa e housing sociale Paolo Franco hanno invocato tolleranza zero su questo tema. L'assessore Franco incontrerà oggi pomeriggio il prefetto. Ma la conferenza di oggi era stata convocata per discutere del tema delle stazioni, fare un po' il punto della situazione dopo cinque mesi di controlli. 9.000 uomini impegnati in questi controlli, 47 diverse operazioni, una diminuzione dei reati del 27%. È tutto. A voi la linea.